programmazione contenuti con il cosiddetto metodo ciraolo ciao a tutti ciao a tutte alcuni lo hanno definito il metodo frattale oggi per la prima volta proveremo a dargli una definizione quindi anche un nome e lo facciamo con uno dei miei più grandi amici digitali giorgione tavermiti ciao giorgio andrea ciao ben trovato come stai bene bene sto sempre meglio speriamo che si sia una buona senti allora tu mi hai convinto a fare questa puntata io non ci avevo mai pensato in realtà ne abbiamo parlato per l'ennesima volta sempre in live su creator for creator l'abbiamo fatto ne abbiamo parlato ok ci alla seconda e mi hai detto visto che quando cerchi di spiegare come gestisci la programmazione dei tuoi contenuti non si capisce assolutamente niente facciamo una volta per tutte un contenuto in cui lo spieghiamo bene così la prossima volta che lo spiegherai e non si capirà nulla almeno li rimandi a questa live e io quando giorgio mi consiglia obbedisco cosa devo fare esatto l'idea l'idea è proprio questa è quella di provare tentare in qualche modo di rendere logico il processo di andrea che è un processo molto interessante e quindi da di proprio una logica didattica di sì che possa diventare utile per tante persone quindi andrea potresti fare un contenuto in più dopo se riusciamo a trovare una quadra e più avanti o quando vuoi insomma ma la cosa che mi è proprio balzata in testa quando l'ho sentito per la prima volta poi l'ho sentito la seconda poi io ti ascolto ti ci conosciamo da ormai tanto tempo e dico cavolo ma questa cosa qui effettivamente può fare la differenza per tante persone che fanno content creation e quindi non è facciamo una live solo per trovare un modo ad andrea più bello di più efficace di divulgare questa cosa ma facciamo in modo che una cosa di questo tipo possa aiutare le tante persone che si occupano di content creation perché io me lo sono immaginato su di me e su alcune cose potrebbe funzionare ovviamente su altre no per una semplice questione perché io tratto le notizie quindi entriamo subito nel vivo di una cosa andrea che secondo me è importante dire il metodo ciraolo e ora ce lo facciamo spiegare di nuovo ad andrea e poi tentiamo sia la questione del nome sia la proprio la cosa logica mi raccomando chi è presente in chat obiettivo dargli un nome certo il metodo di andrea è un metodo che ovviamente non funziona sulla tendenza cioè non stiamo parlando di un metodo che ti può dare la possibilità di beccarti la tendenza perché la tendenza la becchi giorno per giorno non stiamo parlando di un metodo che ti insegna a spaccare con il video giornaliero o che ti insegna qualcosa sull'immediato da un punto di vista proprio di piano editoriale prima di aprire la live dicevo andrea proprio a tema con oggi ho appena finito di fare l'upload del mio video di domani che è una cosa che se tratti le notizie va benissimo ma se invece non fai parte del mondo che vuole trattare le notizie che tratta i trend queste cose qua non va bene che oggi fai l'upload per il video di domani e quindi da questo punto di vista ora tentiamo di capire un po questo metodo e forse partirei proprio dalla definizione che aveva dato il visto che l'ha suggerita tutorial express in in chat perché aveva coniato o una un metodo che le ricordava un altro metodo com'era il sai che non me lo ricordo neanche un po giorgio no ce l'avevo salvato l'avevo salvato dove cavolo l'ho salvato proprio per questa live mi era salvato solo quella cosa lì sai mentre tu lo cerchi fammi ricordare un paio di cose a chi ci sta seguendo la prima di queste che quindi che cosa faremo durante questa puntata cercheremo di darvi qualche indicazione su come gestire la programmazione anzi preferisco dire la schedulazione così i grammar nazi si arrabbiano perché uso gli inglesismi proviamo ad aiutarvi a gestire la schedulazione dei vostri contenuti che non è una cosa banale quindi in questo video ci concentriamo non su tutto il calendario editoriale e su come gestire per esempio la scelta degli argomenti la scelta dei contenuti la gestione delle categorie eccetera eccetera ma ci concentreremo in particolare sulla parte legata alla programmazione quindi a quanti contenuti pubblicare nell'arco del dell'anno del mese e poi della settimana sulla base di un metodo che vedrete molto particolare l'altra cosa che vi voglio dire è che per per utilizzare questo metodo dovete iniziare a ragionare in termini di qualità e quantità dei contenuti che realizzate molte volte i creatori e le creatrici di contenuti partono da un'idea di quantità minima di contenuti da creare e nel momento in cui gli avanza del tempo ottimizzano la produzione dei contenuti aumentano la cosiddetta qualità dico cosiddette uso le virgolette perché poi di fatto non c'è nulla di più soggettivo che il concetto di qualità ad ogni modo una volta che uno dice ok io faccio un video alla settimana bene miglioro nella mia produzione e che cosa faccio nel momento in cui mi avanza del tempo faccio dei video più belli questa è sicuramente una cosa che ha senso ma questa strategia a questa strategia manca una stampella manca una gamba come un tavolo senza gamba ovvero gli manca l'aspetto di quantità che su youtube o comunque sulla maggior parte delle delle piattaforme è fondamentale e quindi il suggerimento che vi do io ed è così che si utilizza questo metodo è nel momento in cui avete definito un livello qualitativo minimo che è quello che ritenete accettabile per il vostro progetto a quel punto se vi avanza del tempo perché avete ottimizzato la vostra produzione non migliorate la realizzazione dei vostri video ma fatene di più quindi fate in modo di avere sempre più video nella nella vostra programmazione perché questa cosa è utile è utile perché più video create e più diventate bravi e brave a fare video quindi migliorate anche la qualità perché ne create di più e perché vi esercitate di più inoltre più video avete e più avete possibilità di entrare nelle maglie dell'algoritmo della piattaforma le piattaforme scelgono i video da spingere sulla base di una serie di parametri che per noi sono inconoscibili e non è un caso che la maggior parte degli youtuber o dei creators vi diranno guarda a un certo punto la piattaforma ha scelto quel video che mi faceva schifo che mi ero anche dimenticato lo ha spinto e quel video si è trainato molti altri video quindi per poter fare questa cosa voi dovete dare impasto alla piattaforma più video possibile non sbattete questo è il mio suggerimento che magari alcuni e alcune non condivideranno però è un po quello che io ho deciso di fare nella mia nella mia esperienza e devo dirvi che ha pagato in termini di risultati non diventate matti non sbattete la testa sulla patinatura dei vostri video su quell'aspetto così soggettivo di qualità che poi molte volte sfociano il perfezionismo ma lavorate piuttosto sugli aspetti quantitativi e questo questa cosa come fare questa cosa qua ve la spieghiamo fra pochissimo non so Giorgio se avevi da aggiungere o se hai trovato il riferimento che cercavi sì l'avevano messo poi anche in chat era il metodo il metodo zenone il secondo paradosso quello di Achille della tartaruga era molto diciamo che il ricordava ricordava questa cosa che insomma questo questo metodo però 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 arriviamo secondo me ora ad un ad un ad un punto fondamentale cerchiamo facciamo una una prova una diciamo una simulazione una simulazione su un foglio drive un spreadsheet se se puoi aprire qua che grande allora facciamo questa simulazione e facciamo finta quindi che una persona che si occupa di content creation su youtube voglia arrivare a essere coperto per diciamo vuole pubblicare un video ogni boh al mese che dici ok allora secondo me Giorgio in questo caso dobbiamo un attimo cambiare prospettiva ancora una volta cioè noi siamo abituati quando ci buttiamo su una piattaforma a definire la frequenza di pubblicazione dei nostri contenuti secondo me è un piccolo errore perché invece che definire la frequenza e quindi decidere che pubblichiamo un video alla settimana il suggerimento che io vi do è definite la distanza più che la frequenza e quindi decidete fino a che punto volete o dovete avere un buffer di contenuti che cosa vuol dire avere un buffer che qualcuno citava nella chat il nostro amico matteo il giovane matteo intanto ciao a tutti e ciao a tutte che cosa vuol dire avere un buffer vuol dire avere dei contenuti che ci permettono di sopravvivere anche se noi non ne creiamo degli altri quindi avere dei contenuti da parte alcuni le chiamerebbero per esempio Stephen King le chiama le le noccioline per l'inverno come uno scoiattolino si prende le noccioline e se le mette nella sua tana la stessa cosa possiamo fare noi con i nostri video con i nostri contenuti avere dei contenuti da parte in modo da non dover ogni volta arrancare e inseguire la realizzazione dei contenuti questo ancora una volta ci è utile perché ci toglie stress e ci permette di crearli quando siamo calmi nei momenti in cui abbiamo il maggior livello energetico nei momenti in cui siamo concentrati e concentrate e non nei momenti in cui abbiamo l'urgenza di farli quindi il suggerimento che vi do è arrivate su youtube non decidete quanti video la settimana fare decidete quanto volete andare lontano ipotizziamo giorgio se sei d'accordo che noi vogliamo esagerare noi vogliamo arrivare lontani tre mesi addirittura io non sono mai arrivato così lontano vi dico la verità però facciamo proprio la situazione più idilliaca che possiamo immaginare e decidiamo che noi vogliamo stare tranquilli e tranquille con i nostri contenuti per tre mesi ok quindi facciamo che abbiamo oggi domani dopo domani e poi abbiamo il quarto giorno qui iniziamo numerarli magari vediamo se ce li prende già così ok quindi dobbiamo arrivare fino a 90 ok vogliamo avere 90 giorni di 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 buffer perfetto dimmi se si capisce quello che sto dicendo a questo punto che cosa faccio anche voi in chat ditemi se si capisce realizzo il primo video benissimo che ci faccio con quel video che ho realizzato lo pubblico lo metto qui video no non lo metto qui facciamo così mettiamo anche uno sfondino non lo metterò qui ma lo metto ipotizziamo a un mese quindi lo metto al giorno 30 eccolo qua realizzo un altro video quest'altro video lo metterò al giorno 60 perché lo metto un mese dopo realizzo un terzo video e lo metterò al giorno 90 eccolo qui e a questo punto io con tre video mi sono fatto ve lo faccio vedere un po da lontano anche se lo vedrete molto piccolo mi sono fatto il mio buffer adesso io sono arrivato a 90 giorni naturalmente questa roba è dinamica perché a un certo punto questo video verrà pubblicato e quindi io dovrò sempre continuare a me a dare in pasto al mio alla mia programmazione dei nuovi video ma questo qua è scontato ipotizziamo di essere nello stato attuale con il tempo fermo e avere tot video benone a questo punto io un altro video o un video o il video numero 4 dove lo metto il video numero 4 beh vado a riempire gli spazi quindi qualcuno lo definiva il metodo frattale vado a metterlo a metà degli spazi liberi quindi se il prossimo video il primo dei video sarà a 30 giorni il quarto video che io realizzo lo metterò a 15 giorni il video successivo che realizzo lo metterò a 45 giorni il video ancora successivo che realizzo lo vado a mettere a 75 giorni naturalmente se io mi fermo qui e non ho altri video basta va benissimo così io un buffer che mi dura fino a 90 giorni di un video ogni due settimane molto meglio che arrancare per carità arrancare anche dei vantaggi psicologici perché magari uno sente la pressione del dover pubblicare il video si obbliga a farlo diciamo che tutti gli aspetti psicologici ce li siamo risolti e che siamo in grado di gestire il nostro tempo in maniera efficace in questa maniera vedete che io mi sono appena creato una programmazione di contenuti che mi arriva fino a 90 giorni quindi fino a tre mesi di programmazione naturalmente la programmazione blanda abbiamo un video ogni due settimane può fare decisamente di più ed è qui che entra in gioco il fatto che io magari riesco a creare degli ulteriori contenuti nel momento in cui li creo avete capito come funziona riempio gli spazi di programmo in mezzo adesso lo sto facendo un po a caso però vedete che man mano che io dei nuovi video vedete che si va a riempire ulteriormente la mia programmazione ho altri video ma top ne mettiamo uno dopo domani li mettiamo qua li mettiamo qua basta magari io mi fermo qui magari ho una programmazione molto serrata per i prossimi 22 giorni e dal ventiduesimo giorno in poi invece la programmazione diventa meno serrata eventualmente potrei anche decidere che verso la fine di questa programmazione la programmazione diventa più blanda in questa maniera quindi io potrei anche scegliere con un po di flessibilità che nel primo mese nel mese successivo la programmazione più serrata se poi non riuscissi a fare altri video ne ho comunque uno alla settimana e se poi non riesco ulteriormente a fare altri video ne ho comunque uno ogni 15 giorni per cui può funzionare anche in questa maniera ok questo questo sistema questo metodo che andrea ci sta illustrando è un metodo molto interessante io appena l'ho sentito la prima volta ho detto ok ci ho messo un po a capirlo all'inizio poi in realtà mi sono ricreduto quando ci ho riflettuto sul fatto che sia molto valido perché è molto valido perché da questo punto di vista io mi vado a togliere l'ansia che ho nella programmazione e che cosa è che avviene quando ti togli l'ansia della proprio della che cos'è che ti abilita questo metodo il metodo giraolo il metodo giraolo ti abilita una cosa molto importante che è l'altro metodo che andrea usa infatti sono tutte collegate cioè non è che una persona si inventa le cose perché gli viene un'idea in testo geniale ma andrea ha questa sua attitudine che è bene che secondo me sia divulgata perché è buona di andare a spezzettare nel modo più preciso possibile nel modo più piccolo possibile la produzione di un video di più video quindi andrea separa i momenti nei quali lui monta e ma poi ovviamente questo avviene nei fasi però lui per esempio quando ne ha parlato l'ho sentito parlare la prima volta lui raccontava che la maggior parte delle volte lui separa più possibile i momenti cioè andrea correggimi se sbaglio ovviamente tu separi il momento per esempio stupido del montaggio dal momento della creazione della copertina dal momento della scrittura del video sono tutti i momenti separati giusto sì te lo confermo giorgio di fatto quello che faccio ve l'ho raccontato già tante volte è dividere in maniera molto netta ci ho fatto anche un video proprio specifico su questa cosa qua le varie fasi della creazione del contenuto e quindi io magari dedico mezza giornata per dire ma a volte mi è successo magari non mezza giornata però a volte due ore io le dedicate soltanto alla parte di calendario editoriale e di ideazione dei contenuti che voglio fare quindi non della scrittura dei contenuti ma dedico molto tempo anche solo a dire ok ma che roba che cosa faccio cioè che contenuti voglio creare e quella cosa richiede tempo e poi ancora magari dedico mezza giornata alla scrittura di tre o quattro video tutti insieme e poi dedico mezza giornata dalla registrazione poi dedico mezza giornata al montaggio cosa che in realtà oggi non faccio perché lo fa francesca che collabora con me però il concetto è il medesimo e poi ancora magari dedico che ne so io due ore alla pubblicazione dei contenuti che anche in questo caso in mio caso specifico francesca ma che fino a poco tempo fa realizzavo io e questa cosa qua perché è molto utile perché ci toglie la fatica di dover switchare ancora ciao grammar nazi di dover switchare tra un'attività e l'altra cioè il cervello spende energia quando noi cambiamo attività e se noi invece rimaniamo in focus sulla stessa attività riusciamo a entrare in uno stato che quelli bravi chiamerebbero uno stato di flow di flusso che ci permette di essere più concentrati e più concentrate esatto questo questo poi ognuno lo chiama come come lo vuole comunque questo metodo che andrea sta citando da un punto di vista di quello che succede psicologicamente c'è l'ho letto per la prima volta nel libro scrum fare il doppio nella metà del tempo che poi è stato anche il mezzo titolo del del tuo intervento sui video no e che spiegava proprio questa cosa di fare un test lui diceva una cosa simile non è proprio preciso così però lui diceva immaginate di dover fare tre task diversi ovvero scrivere i numeri da uno a dieci con il nostro alfabeto puoi scriverli in romano e poi scriverli in un altro alfabeto quindi vi mettete su tre colonne di di un foglio di carta vi mettete su tre colonne se voi procedete a in livello verticale cioè prima tutti e dieci nella nostra lingua poi tutti e dieci in romano andate molto più veloce che invece andando in linea orizzontale ovvero scrivendo il numero uno con la nostra lingua poi il numero uno in romano e il numero uno con un altro sistema perché proprio sguicciate costantemente da un'attività di pensiero all'altra mentre quando andate in linea diciamo verticale con sempre la stessa la stessa forma di pensiero andate molto più veloce scrum questo libro quindi il metodo diciamo proprio di fare questa prova di cronometrarsi quanto ci vuole a fare una roba del genere e in effetti ci vuole tantissimo io l'ho provato per una velocità impressionante proprio per i fan del multitasking che non va bene quindi il metodo di schedulazione che ora ci rientriamo abilita al content creator la possibilità di entrare in una fase più proficua di creazione di contenuti sia perché puoi andare molto più veloce sia perché e permettetemi questa forse di lezione però io la noto per me vale così più efficace nella proprio nella creazione del contenuto perché nel momento in cui tu sei nella fase creativa e ti metti a scrivere un video ed entri in quel flusso di pensiero scrivere il secondo video è molto più facile invece mettersi ogni volta a scrivere un solo video si rifà sempre la fatica io lo sto vedendo ora che sto facendo di nuovo ripreso a fare delle cose un po più complesse rispetto a prima ovviamente ogni volta che mi metto a scrivere un video ho un tempo di fatica di entrata nella proprio nella scrittura andrea cioè ho un minutato l'altra volta ti giuro ci ho messo un'ora e mezza cioè un'ora e trenta minuti per riuscire a trovare la concentrazione ed è perché non lo faccio da tanto tempo ovviamente nel flow di poter scrivere un video ovviamente quando mi sono messo poi stamattina invece di un'ora e trenta ci ho messo 15 minuti ma sono sempre 15 minuti che ho perso tra virgolette no piano piano che riprendo il mio metodo vecchio però sempre più veloce e nel momento in cui userò il metodo ciraolo per andare a programmare i video mi troverò quella mezza giornata in cui devo scrivere solo video ed è ovvio che risparmi un sacco di tempo quei dieci minuti che entro dieci minuti nel video di oggi dieci minuti nel video di domani dieci minuti nel video del dopodomani invece che perdere questa mezz'ora la praticamente la disintegro perdo solo l'inizio perché scrivo tre video in fila lo stesso vale quando vado a fare le copertine le per cercare di trovare la copertina giusta per entrare nel flow ci metto magari cinque minuti per fare la concentrazione di dire ok devo fare questo tipo di copertina se ne faccio cinque è diverso quindi perché il metodo di andrea interessante perché abilita il processo creativo della dello spacchettamento del processo di creazione di un video altrimenti non non lo faremo cioè è difficile raggiungere questa questo tipo di di cosa ora c'è secondo me un altro passaggio che dobbiamo fare in quell excel che tu ci hai mostrato non so se giorgio volevo rispondere anche qualche domanda e vale la pena prima fare il passaggio che dici tu voglia o chiariamo un paio di cose che magari sono dubbi anche in chi ascolta il passaggio che dico io te lo faccio in 30 secondi quindi giusto per così poi rispondiamo alle domande il passaggio che dico io è il seguente oggi ovviamente siamo al giorno 1 quando è il caso effettivamente di risettare l'oggi è una domanda da da porsi cioè non ora andrea ha detto io mi mi paro per tre mesi quindi oggi a 90 giorni è ovvio che se io oggi schedulo il mio primo video vai all'ultimo è ovvio che già domani non sarà il giorno 90 ma sarà il giorno 89 quando è che io devo sguicciare e dire ok faccio il passo in avanti perché l'altro processo che manca andrea nella nella parte logica secondo me e dipende da ognuno di noi ma una settimana può essere buona dieci giorni possono essere buoni se hai 90 giorni ovvero che questa tabella di marcia che ha 90 giorni la si va a resettare una settimana dopo in modo che tu quando crei il prossimo video lo scheduli sempre a 90 giorni così ti pari diciamo quella cosa lì no ti pari quel giochino che tu hai creato che è molto bello e che io andrò a usare non per le notizie perché non posso farlo ovviamente le notizie io le devo registrare per forza il giorno prima cioè le preparo io per esempio come metodo le preparo il venerdì il lunedì questo risponde anche alla domanda di antonio dice quando si trattano temi legati all'attualità no ovviamente non si può utilizzare questo metodo non si può utilizzare questo metodo quando si trattano temi di attualità io non è che ho un metodo ma siccome pubblico il martedì il venerdì faccio in modo che ho l'idea della puntata le schede lo scheletro poi il lunedì praticamente perché faccio una puntata settimana del giornale il lunedì che cosa che faccio sostanzialmente mi rendo conto se è successo qualcosa di importante da integrare o no scrivo la puntata e registro e la pubblico per per il martedì ma siccome io ho intenzione di fare il telegiornale il martedì e il giovedì venerdì mercoledì fare altri video userò questo metodo per andare a creare quei video che in qualche modo mi consentiranno di stare tranquillo cioè di avere quella tranquillità che dice andrea che è molto importante di di questa schedulazione volevo fare questo questo appunto sulla su questa cosa qui perché secondo me era era importante ora per me possiamo rispondere alle domande allora ce ne sono un paio in realtà molto interessanti se ne avete delle altre aggiungetele fatele pure così almeno proviamo a dare a chiarire sempre meglio il concetto questa qua di nabo per sempre dice se i video hanno un carattere successivo di tipo continuo ed è una domanda molto corretta perché mi permette di chiarire una cosa quelli che vedete qui non sono i veri video programmati ma sono semplicemente gli slot che noi dedichiamo ai video in base a quanti video abbiamo da parte in base a quanti video abbiamo in dispensa cioè ipotizziamo per esempio di non avere questo slot allora io qua metto il video 1 qui metto il video 2 e qui metto il video video 3 che sono video che io ho da parte ma che attenzione non ho ancora programmato in realtà semplicemente so che questi video andranno in questi spazi primo video secondo video terzo video a un certo punto riesco a fare il video numero 4 allora cosa faccio e un altro slot in mezzo e però il video numero 4 non lo metto qui perché sennò perdo un'eventuale conseguenzialità ma nel momento in cui ho creato un altro slot io vado a rivedere tutta la programmazione magari decido che il video 4 ci sta bene qui ma magari decido che no allora andrò a prendere il video 2 lo sposterò nello slot precedente prendo il video 3 lo sposto lo sposto vediamo se ce la faccio perché continui a minacciarmi non ha bisogno di questo e il video numero 4 lo piazzerò qua il consiglio che io vi do ma poi ognuno lo gestisce da sé è di non programmarli fisicamente su youtube io di solito programmo con francesca magari la settimana successiva a volte quando ci va di lusso andiamo a programmare due settimane ma ultimamente non succede praticamente mai semplicemente ve li tenete ops ve li tenete in bozza ve li tenete lì su youtube già caricati magari già pronti con la copertina e con tutto quanto e quando il momento giusto poi andate a programmare ipotizziamo di aggiungere un ulteriore slot in questa programmazione ce l'abbiamo qua allora cosa farei il video 4 lo sposto qui sopra e qui vado a mettere il video 5 e così via si è un po anche giorgio e poi ti lascio intervenire quello che diceva dario dario diceva ad esempio io utilizzo un metodo simile così sono coperto fino a marzo in questo momento che buona tanta roba e qui la cosa importante ovviamente se necessario cambio inverto gioco con le pubblicazioni cioè questa cosa qua come tutti i metodi non è che deve diventare una una gabbia una serie di regole dalle quali non si esce ma deve servire a noi quindi nel momento in cui decidiamo che qualcosa va cambiato lo facciamo ti faccio un esempio personale io non lavoro sull'attualità se non in casi eccezionali e molto rari per esempio aggiornamento telegram esce l'aggiornamento telegram mi piace pubblicarlo ed è chiaro che non lo pubblico a 90 giorni quando ne sono usciti già altri due nel frattempo nel caso in cui esce l'aggiornamento telegram io prendo lo metto qui lo metto sempre su oggi meglio lo metto sempre sul giorno in cui riesco a pubblicare il video quindi è sempre oggi e in questo caso che cosa farei per esempio magari farei semplicemente una roba di questo tipo prendo i video che erano già in programma e li sposto leggermente avanti quindi lascio un po di spazio al mio aggiornamento telegram ma non vado a rivedere tutta la programmazione cambiando tutto semplicemente mi sposto un po avanti i video che mi ero programmato ottimo io volevo dire due cose importanti sempre su questa domanda che hanno fatto e allora a meno che il tuo canale non sia tutto conseguenziale cioè a meno che tu non abbia proprio una questione editoriale per il quale per la quale ti consente per forza di andare in sequenza la sequenza diventa un'opportunità cioè prendiamo il canale di andrea se andrea decide che ci sono dei video in sequenza che vale la pena di fare per esempio photoshop invece di fare un video ne fa tre oppure un altro tipo di sequenza photoshop e altri due programmi simili a quel punto c'è l'opportunità c'è l'opportunità di dire alle persone che ci seguono che stiamo creando una sorta di evento e quindi di programmarlo meglio a quel punto si arriva nel livello successivo io mi piace sempre inventare dei termini no di un cercia vale che spettacolo ciao alessandro ben trovato per esempio il canale di alessandro potrebbe farlo cioè che potrebbe fare potrebbe trovare questa provare questa opzione dire sapete che c'è io faccio il mese dell'argomento x e dico a tutte le persone attenzione attenzione c'è un evento il mese di febbraio e la è proprio il mese di photoshop in quel caso la serie diventa l'opportunità ed è tutta una questione di comunicazione che puoi dirlo mesi prima sui video puoi dirlo dopo puoi fare tutta una serie di cose quindi le sequenze video che sono dal mio punto di vista fondamentali sono un'opportunità grande per per chi fa content creation sono sono ottime ma se il tuo canale non è fatto di serie sfrutta questa cosa per farla diventare un'opportunità la seconda cosa che volevo dire su queste cose sul metodo di andrea è che il metodo di andrea che è sulle sequenze su tutte queste cose qui e che abbiamo detto che abilita anche la velocità con la quale tu crei i video c'è una cosa molto importante che stavamo discutendo all'inizio con andrea prima della della chat che sono gli shorts ora gli shorts non sono dei video nostri lunghi in formato più breve sono un nostro nuovo modo di comunicare un linguaggio totalmente nuovo che prima che ognuno di noi che non è abituato trovi il proprio formato ci metteremo secondo me mesi dice lestando io sto preparando una settimana del sonno in cui farò tutti i video e post a tema per esempio la settimana del è fantastico era proprio quello che stavo per sì assolutamente ora veniamo agli shorts e al metodo di andrea perché secondo me lì è davvero esplosiva questa cosa gli shorts sono un nuovo linguaggio di comunicazione e io consiglio a tutte le persone di comunque stare negli shorts youtube e guardare quello che sta avvenendo perché l'unico metodo l'unica cosa quella di guardare noi su youtube siamo cresciuti guardando gli altri se ci pensate chi focalizzate un attimo quando abbiamo iniziato cosa facevamo guardavamo gli altri youtuber ora abbiamo la presunzione di andare a fare gli shorts senza guardare che cos'è lo shorts e guardare le persone che lo stanno usando in modo nativo nativo lasciatemi il termine giusto per capirci nel senso che sono abituate gli viene naturale usare quel linguaggio che sono gli shorts per noi che per me che non è naturale io sto facendo le full immersion le full immersion negli shorts per cosa per tentare di identificare quello che potrebbe essere il mio format e io ne ho trovati due o tre di format alcuni addirittura che avevo già inventato anni fa ma non li sto facendo sto facendo sentimentale l'idea per tentare di capire se va bene ora il metodo ciraolo applicato gli shorts ci rende chiaro subito ed evidente perché funziona questa cosa perché gli shorts non ne puoi fare uno questa è una cosa importante cioè non è che lo shorts ne fai uno e qui andiamo nella quantità andrea diceva prima su youtube è anche importante la quantità negli shorts non è importante la quantità è fondamentale se tu non fai una svalangata di shorts non non ne esci e un'altra cosa che è fondamentale ce ne sono due secondo me che sono fondamentali è essere ripetitivi cioè avere un format che si ripete questo perché ti porta porta le persone a riconoscere il format e soprattutto a beccarlo subito all'inizio una delle una delle cose importanti che con lo shorts è che tu ti chiedi non ti chiedi che cosa sto dici che cosa sta avvenendo no è una delle domande principali mentre con youtube nei video classici te lo scegli il video e ci metti un po magari a capire di cosa sta parlando sugli shorts tu schippi subito quindi avere la riconoscibilità è fondamentale mi fa ridere a me se non sbaglio è fedez con la figlia che sta facendo un video dove i video shorts dove lei la figlia ogni tanto dice è no bella dice questa frase questo fatto di riconoscere questa impronta vocale e di essere ripetitiva è fondamentale per avere la propria impronta essere riconosciuti dalle persone fare in modo che restino a guardare gli shorts le persone che effettivamente ci riconoscono e questo l'algoritmo lo premia un sacco per questo serve la fase della ripetizione devono essere portati nel un format di shorts deve essere portato nel tempo ci vogliono centinaia probabilmente di shorts per fare un buon risultato eccezioni a parte l'altro punto è l'engagement quindi mi piace i commenti funzionano tanto lo sto facendo un test proprio col canale di andrea per vedere quanto l'algoritmo degli shorts poi mi spinge gli shorts di andrea e funziona tantissimo e probabilmente gli shorts di andrea sono gli unici addirittura a tema cioè youtube non me li ha mostrati fino a quando non ci ho interagito pensate che cosa pazza io non ho trovato shorts a tema con me ci ho messo una settimana a stare lì a spolliciare o poi mi sono ricordato che andrea li aveva fatti ci ho interagito e mi hanno cominciato a mostrare quindi queste due cose sono importanti perché il metodo scusate ho fatto un giro lunghissimo interessante giorgio perché il metodo ciraolo funziona di più negli shorts perché gli shorts essendo che ne dobbiamo fare tanti dobbiamo produrli in fabbrica più che gli altri quindi di conseguenza una volta che ho individuato il format non mi posso mettere lì a scriverne uno oggi uno domani e uno dopo domani lo stesso con la registrazione non posso registrare uno short oggi e poi ne registro uno domani e poi uno dopo domani diventa stancante per noi questa cosa invece anche perché scusami giorgio un minuto di contenuto rischia di essere più il tempo che ci mette a concentrarti che quello che ci mette a registrarlo esatto esatto assolutamente sì quindi la cosa importante secondo me è che a questo punto diventa evidente che per esempio con gli shorts il metodo di andrea è efficace perché nel momento in cui tu hai il tempo per scrivere non scrivi uno shorts perché quando sei in quel flow scusate se uso questa parola mi è venuta così spontanea e quando sei davvero in quel flusso lì cavolo a quel punto che sei in quel flusso a scrivere uno shorts ci metti poco e quindi te ne scrivi 10 20 e quando le registri le registri tutte nella stessa giornata e quindi riesci a fare questa questa roba qui che è molto è molto importante dice analisa ci siamo lamentati di twitch che richiede presenza e ore di lavoro ma quante ore ci occorreranno per fare il format sicuramente all'inizio ce ne occorreranno tantissime soprattutto perché non capiamo questo linguaggio lo dico da fruitore che vedo persone grandi che fanno gli shorts e mi metto le mani nei capelli dico ma proprio cavolo non l'abbiamo capito ma anche io quando nei miei shorts dico questa cosa non non va non va bene e quindi la verità analisa che è una vita difficile sì e quindi questo metodo di andrea secondo me aiuta aiuta tante persone sia nel produrre di più sia nel dormire sonni tranquilli che probabilmente è una dei vantaggi del metodo volevo rispondere a daniele giorgio che mi permette di dire un'altra cosa che secondo me è molto utile daniele dice a me è capitato di programmare anche un mese intero due video a settimana ma non ho capito perché consigli di tenerli in bozze e non programmarlo che cosa sta dicendo daniele daniele dice che lui ha con le funzionalità suppongo di youtube o comunque qualsiasi piattaforma permette di farlo ha programmato i video in anticipo per un mese intero in modo che poi questi venissero pubblicati automaticamente dalla piattaforma al momento giusto e dico la verità non è che vi sconsiglio di farlo è una cosa che ho fatto per molto tempo anche io e che in alcuni casi continuo a fare soprattutto naturalmente se quel video deve essere programmato in premiere in quel caso è ovvio che lo dobbiamo programmare con anticipo in generale però e questo è un consiglio che mi sento di darvi state sempre molto molto attenti e attente a fare cose in anticipo che poi in qualche modo rischiano di dover essere rifatte con il metodo che vi ho fatto vedere a volte succede che uno debba cambiare tutta la programmazione di diversi video perché magari si aggiunge un video all'inizio della catena e questo fa slittare di un gradino tutti quelli successivi e in questo caso il rischio è che io mi sono programmato tutti i miei bei video ma poi a causa di una modifica devo andare a perdere tempo e rimodificarli rimodificare la data di pubblicazione di tutti e quindi il consiglio che mi sento di darvi è decidete in base a come siete più comodi e più comode cambia niente di fatto ma dove possibile è sempre meglio fare le cose in questo caso uso le virgolette all'ultimo momento per essere sicuri e sicuri di non doverle poi variare in corso d'opera questo è un consiglio generale che vale un po per tutte le cose che facciamo e la stessa cosa così concludo con la risposta bomale dice la programmazione visibile e visualizzabile dai visitatori no nella maggior parte dei casi no a meno che tu non programmi video con la funzionalità della premiere e in quel caso lo è devo ammettere che ultimamente io come premiere metto solo i video quelli molto grossi quelli le guide complete quelli che durano magari diverse ore i corsi i piccoli video non li metto più in premiere perché sui piccoli video non ne ho visto un grande beneficio mentre sui video grossi secondo me c'è un grande beneficio su quelli piccoli non no non mi sembra di averlo notare ok io direi che ora che abbiamo abbastanza motivato e chiacchierato un po di quello che possono essere i vantaggi io direi proprio di fare un elenco dei vantaggi del metodo andrea così possiamo provare insieme alle persone che ci stanno ascoltando a trovare un nome o una descrizione e io spero che sia ora più chiaro quello che è il suo il suo metodo e che questo video poi possa essere condiviso linkato a tutte le persone che che vogliono creare contenuti con questo metodo col metodo che non stai sulle tendenze ma stai soprattutto sulla programmazione di lungo di lungo periodo allora i vantaggi mi raccomando se avete delle domande scusami giorgio se avete delle domande fatele che siete ancora in tempo e a proposito di tendenze fammi aggiungere anche questo questa parte è chiaro che se sei break in italy questa roba qua non la puoi fare nella maniera più assoluta cioè ovviamente ci sono canali che non hanno cioè non possono anticipare nulla ma che stanno sull'attualità in maniera molto aderente per cui in quel caso è ovvio che che questo metodo non ti serve a nulla ci sono però diversi diversi casi in cui questo metodo si può anche mixare con un lavoro più sull'attualità per cui magari alcuni di noi possono creare dei contenuti pensati per essere degli hero content quindi dei contenuti sempre verdi dei contenuti che performano nel tempo e che vengono ripescati nel tempo nel mio caso pensate le guide complete io oggi tipo il mio secondo video più visto questo mese è un video che ho realizzato oltre un anno fa ed è questo mese il video più visto cioè non un anno fa e non in tutto ma soltanto in questi ultimi 28 giorni è il secondo video più visto e il primo in realtà è stato realizzato tre o quattro mesi fa perché la guida sull'html che è un video che sta andando super alla grande il secondo per vostra curiosità è quello su da vinci risolvi invece e quindi da un lato potete lavorare sugli hero content con questa modalità quindi creando dei contenuti che sono pensati per restare contemporaneamente potete lavorare sull'attualità se il vostro canale si presta naturalmente e quindi pensare dei contenuti che come abbiamo visto prima con l'esempio di telegram vi andate a incastrare all'interno di quegli altri con un minimo di flessibilità e un po' di elasticità mentale riuscite tranquillamente a far funzionare entrambe le cose che è un po' quello che farò io praticamente cioè mi lascio sostanzialmente il video del martedì dove faccio il telegiornale sul fast forward che segue la tendenza mentre sto tentando di schedulare con più gittata diciamo così i video che farò durante il resto della settimana ho intenzione di arrivare a fare due massimo tre video a settimana e quindi sto iniziando ad applicare questo metodo senti qui ci sono un po' di commenti Giorgio prima di passare ai vantaggi Gian Battista assolutamente d'accordo con tutti il batching è molto efficace ti permette di non perdere il focus e di evitare soprattutto sprechi di energie sono d'accordo con te l'algoritmo chiede Diego Webb di YouTube riconosce gli short solo dall'hashtag nel titolo e nei tag in realtà no credo che Giorgio te lo conferma non serve più l'hashtag una volta era obbligatorio io non lo sto più mettendo e YouTube li riconosce tranquillamente è facoltativo esatto per essere uno short il video deve essere più corto di un minuto occhio che a volte mi sono reso conto che i video di un minuto fa un po' fatica cioè ti consiglio 59 secondi o meno e deve essere verticale non credo che debba avere altre caratteristiche Giorgio una cosa che voglio dire sugli shorts non focalizzatevi sulla lunghezza cioè il fatto che sia di un minuto magari più avanti anche lo aumenteranno tutto quello che volete perché TikTok fa anche i video più lunghi però non dovete focalizzarvi sulla lunghezza cioè non è che siccome ho un minuto devo riempire lo spazio questo è una mentalità nostra vecchia del fatto che noi siamo abituati a fare i video lunghi e quindi ne vogliamo fare uno più breve quindi diciamo ho un minuto devo riempirlo no e purtroppo lo faccio lo faccio l'ho fatto anch'io e l'ho fatto anch'io per mesi e poi mi sono svegliato una mattina detto ma che cavolo sto facendo ma sono diventato scemo nel senso che gli shorts si basano su altri linguaggi su altre metriche e quindi è un po come vi faccio questo parallelismo che non so quanto possa aiutare però credo che sia calzante è come i tempi comici c'è un tempo comico un tempo comico è dato da varie cose che a un certo punto ti fanno ridere altrimenti non funziona e non è quanto è lungo è proprio quando dici quella cosa lì in che modo la dici con quale pausa e che cosa fai altrimenti non non funziona proprio la comicità ecco lo shorts è un po questa cosa qui noi siamo noi dovremmo basare lo short sull'emozione cioè la cosa principale dello short è l'emozione che noi lasciamo e nel momento in cui quell'emozione fa calare proprio si vede l'attenzione che una persona sullo short è finita quindi la lunghezza non dovrebbe essere un riempimento di tempo o un minuto lo devo sfruttare al massimo ma è quando è il momento di chiudere e su questo vi trovate un sacco di shorts e li guardate che effettivamente non vi rendete conto che lo short è finito perché vanno in loop no non so se 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 siete resi conto ma alcuni shorts a un certo punto voi non vi siete davvero resi conto che è finito perché hanno creato un circolo alcuni creator alcuni che stanno facendo questa cosa geniale tu non ti rendi dici ma è finito sta reiniziando ed è bellissima questa cosa proprio perché sei in un picco d'attenzione altissimo stai generando le tue le tue emozioni e non chiude questa emozione ritorna indietro noi invece nei video siamo abituati addirittura che alla fine diciamo e lo facciamo bene il video è finito ora fai questo fai quest'altro fai quest'altra ancora ci siamo abituati alla chiusura del video la chiusura io ce l'ho sta roba qua mi rendo conto proprio quando lo faccio mi dico quanto sono boomer esatto esatto se sei boomer negli shorts lo vedi nella chiusura perché io li apro e li chiudo proprio con una maniera didascalica micidiale ma non resisto cioè mi sento male devo devo proprio imparare sì è così è una cosa che dobbiamo imparare anche io la sto imparando non è così facile però è ecco proprio questa cosa del chiudere l'emozione è una cosa che dobbiamo imparare per chi mastica di questi argomenti insomma e per rispondere alla domanda di pippo calipo che non so se è quello del tonno che è un grazie però al dia di pippo calipo del tonno il calipo 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 scusa no pippo calipo 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 ho letto male che cos'è no non c'è allora gli shorts non parte la notifica quando mandi uno shorts non c'è nessuna notifica push li puoi togliere dalla home perché dalla personalizzazione del canale puoi togliere la scheda shorts l'unica cosa che compaiono nella parte video quando la persona clicca su video e compaiono lì e ovviamente compaiono nella home di youtube e nei consigliati per le persone che ti seguono davvero davvero tanto quindi diciamo che si si sta andando verso un mondo dove queste cose sono sempre più più integrate chiaro chiaro barbie show ci conferma che sui dieci video più visti sono quelli di quattro anni fa ogni ogni santo mese maestro tommaso che salutiamo e nella fase sempre verde sta facendo un tesoretto secondo me è molto saggio sì roberto io anche se ne faccio diversi video alla volta li edito quasi all'ultimo e li metto su youtube perché mi vengono continue modifiche miglioramenti da fare sul video vabbè una strategia interessante cioè tu dici per evitare il perfezionismo su alcune cose arrivo all'ultimo momento così almeno non ho la tentazione di continuare poi a rimestare il mestolo nella minestra ci sta ci può stare ognuno poi si conosce e sa come gestirlo ok stavamo dicendo giorgio dei vantaggi di questo metodo vai sì secondo me se andiamo un attimo su excel proviamo a fare una colonna giusto così di appunti vantaggi e vediamo anche le persone cosa ci suggeriscono dai diciamo dai vantaggi che si hanno da questo metodo di schedulazione così secondo me nel vantaggio troviamo anche il nome cioè il nome può essere anche l'espressione di di un vantaggio per esempio una cosa che non farei col tuo metodo un nome potrebbe essere ma non c'entra niente c'entra ma non è giusto è schedule pro cioè intrinsecamente con un nome schedulazione pro ti fa capire che così diventi bravo a schedulare video ma in realtà col tuo metodo non si diventa bravi a schedulare i video giusto per capire dove voglio andare a parare innanzitutto allora segniamoceli tutto tutto quello che ci viene in mente tipo Dario dice non hai stress ti evita il burnout e diciamo più che non hai stress che mi sembra troppo bello meno stress meno stress stress less esatto meno stress è una cosa sicuramente diventi più produttivo per la seconda per la seconda parte del metodo cioè ti abilita alla produttività queste sono sì meno stress è veramente un vantaggio è un vantaggio secondo me importante però è un vantaggio più di possiamo dire di primo impatto ecco ci sono vantaggi quelli evidenti subito immediati ci sono dei vantaggi che non sono così così facilmente visibili subito io per esempio direi che lavori al momento giusto cioè non lavori quando hai finito i video ma lavori quando sei creativo quando ti senti in un momento di creatività sì questo è un bel vantaggio per esempio è un bel vantaggio quindi cavolo quindi meno stress più produttivo e lavori al momento giusto dopodiché hai anche tutta la questione è un vantaggio anche tutto il fatto che per le persone cioè come dire è vero che ti porta meno stress ma porta anche una una conserva per l'inverno no quindi ti porta come possiamo chiamarla se sei in ospedale sei a posto con i contenuti è esatto questa cosa qui meno emergenze sì sei meno in emergenza sulla sei meno in emergenza bravo in emergenza direi barra testisci imprevisti io faccio parte di una compagnia teatrale comica e di queste a stava parlando sicuramente della dei tempi comici ecco francesco per esempio io non so che canale ai però sarebbe bello un video su questo tema sulle non tanto per insegnare le tecniche o comunque qualsiasi cosa ma per per parlarne un video dove ne parli perché io non sono così esperto però sarebbe bello fare degli esempi eccetera eccetera perché ti fa capire un sacco di cose già una proposta di nome se il calendar dice mettilo su proposte di nome facciamo così nomi esatto grafico orribile di questo ma ci va bene così va bene libertà di produzione sei libero di produrre quando vuoi come sei ispirato questo rientra comunque nella sì anche secondo me ennio io sono d'accordo con te io condivido con con lui questa cosa che il metodo che metodo ciraolo è il nome giusto assolutamente metodo frattale anche il metodo frattale che era stato suggerito la volta scorsa a me piace molto il metodo ciraolo perché in realtà ti rappresenta tantissimo e rappresenta davvero quello che fai quello che ci hai che ci sta insegnando a tutti noi comunque però allo stesso tempo questo lavoro che stiamo facendo può essere molto utile per identificare uno slogan se scegliamo se scegli poi tu Andrea metodo ciraolo uno slogan e comunque i vantaggi perché ora abbiamo fatto questa live ma Andrea potrebbe fare un video dove lo spiega solo lui nei dettagli quando tutte queste cose qua potrebbe fare un video più breve e quindi potrebbe essere molto utile capire quelli che sono davvero i vantaggi anche nel racconto del video può essere sfruttata questa cosa Dario Scala dice mantieni standard più elevati questo è vero questo è vero quindi ottimo questo 6.6 che abbiamo che poi è il punto 5 vedi Luca dice che i video accumulati gli hanno bello questa cosa grande Luca che ci hai portato questa questa esperienza e in effetti è anche per questo che io sto andando col tuo metodo Andrea sto cercando di portarlo avanti perché so che ho dei momenti in cui sono meno presente e non potrò fare video e anche se non c'è il giornale il martedì so che gli altri giorni potrò fare dei contenuti produzione in safe mode è bellissimo potrebbe essere uno slogan anche quindi lasciamolo lì safe mode metodo Zanone è il metodo dal quale siamo ah giusto quello di Ilari di Ilari allora un vantaggio di centonino potrebbe risiedere anche nel fatto di avere sott'occhio tutte le produzioni già scritturate e create allora questo è un vantaggio un po' più basso rispetto agli altri però anche perché in realtà non è specifico di questo metodo no non è specifico di questo metodo qualsiasi tipo di programmazione sì in realtà lo fai con tutto giusto per capire che vantaggio è lui dice avendo a colpo d'occhio tutto quello che hai fatto oltre che te lo tieni sott'occhio il vantaggio è quello che è nel momento in cui devi produrre qualcosa sai a cosa agganciarlo è più facile poi Barbie giustamente dice una cosa imprevisto di questo metodo è che se tu programmi un nuovo format e magari hai realizzato diversi video di quel format poi ti accorgi che quella roba lì non funziona intanto li hai dovuti fare questo è vero ma questo è uno svantaggio in generale della programmazione quando realizzi le cose il suggerimento che in questo caso mi sentirei di darvi è quando fate delle cose nuove in quel caso effettivamente non esagererei nella produzione di chissà quanti contenuti a meno che non vi sentiate super 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 sicuri e sicure di quello che state facendo però in generale se il formato è nuovo io prima lo testerei e poi magari inizierei a produrlo in batteria ecco da utilizzare secondo me è molto buono per chi è agli inizi perché chi è agli inizi fa sempre un po' fatica a capire quanto tempo ci vuole per fare video per creare i contenuti e poi è anche molto rapida la curva di apprendimento o perlomeno il tempo diminuisce in maniera molto veloce nella creazione dei contenuti per cui secondo me come vantaggio il fatto che sia utilizzabile anche perché le prime armi è molto vero ok ottimo comunque buffer è anche un termine interessante poi Francesco dice questa cosa che io non la conoscevo l'ho appena cercata su Google Francesco Crovelli non ho ancora un canale YouTube ma ci sto lavorando come passatempo per fare uno scaffolding dei temi scolastici ed extra scolastici Francesco era la persona che aveva detto del teatro che avevo detto di giusto per tirare un po' le fila che avevo detto di fare quel video sulla comicità sui tempi comici scaffolding io non lo conosco tu lo conoscevi questo termine? penso di sì André no? ok lo leggo su Wikipedia il termine scaffolding viene utilizzato in psicologia e pedagogia per indicare l'aiuto dato da una persona ad un'altra per svolgere un compito ah ok imparcatura o ponteggio quindi eh ah ok bello ma in realtà Francesco questo è un grande gancio per un canale YouTube per questa cosa che bello è un grande è un metodo didattico giustamente Tommaso è un grande gancio per il tuo canale YouTube perché hai già trovato una motivazione fortissima che è uno dei problemi principali per chi inizia con YouTube è trovare la motivazione forte per la quale una persona dovrebbe seguirti sì quindi tra l'altro è una roba che da quello che capisco è stata teorizzata da ah no non è stata teorizzata da ma è legata a uno psicologo molto famoso che si chiama Vygotsky tra l'altro c'è anche la serie di Roberto Mercadini me lo ha detto Vygotsky molto bella e guarda mi fa venire in mente una roba che adesso non voglio anticipare troppo perché mi è venuto tipo come lampo di genio poi la la approfondisco bene però visto che siamo a un'ora di live e qui chi è rimasto è perché è davvero interessato a volte le persone mi dicono ma come si fa a creare dei tutorial che funzionano veramente che siano apprezzati e che permettano alle persone di capire beh secondo me tutto il segreto della creazione di un buon tutorial sta nel concetto di zona di sviluppo prossimale non ve la spiego ve l'andate a cercare su Google se oggi voi fate tutorial o comunque contenuti in qualche modo formativi la zona di sviluppo prossimale è forse la cosa in assoluto più importante a cui dovete far riferimento grande infatti stavo cercando un metodo per fare i tutorial zona di sviluppo prossimale ci sono svantaggi dice Bumale dai effettivamente possiamo chiedercelo sì ci sono svantaggi ovviamente che non lavori sull'attualità ma quello lo abbiamo detto scontato ma sì vabbè non lo metterei come svantaggio nel senso che è implicito cioè proprio però sì è un metodo non adatto più che altro a chi non è adatto a chi esatto vediamolo Paolo che salutiamo dice do it ah il nome del metodo metodo do it stavo cercando ok ok secondo me sì non è adatto all'attualità ok l'altro svantaggio che si ha con un metodo del genere è che potrebbero uscire delle novità e devi integrarle cioè se hai programmato un visito tra due mesi e effettivamente è successo qualcosa di grosso devi integrarlo quindi sì bisogna stare un po' attenti gli aggiornamenti sì poi Eliana dice che è una cosa interessante è un nome perfetto per la war in esclusione del brand ma bisogna di essere focalizzato sul topic perché altrimenti può valere su qualsiasi cosa certo qui ci rifletterà Andrea nel senso che sì poi vi dico e non è che io voglia farne chissà che cosa del metodo ciraulo tipo venderlo a caro prezzo e robe del genere è semplicemente un modo per per raccontarvi questa cosa per divulgarla come diceva Giorgio e adesso un po' per ridere e per divertimento gli diamo un nome ma vi dico che non è che sia la cosa fondamentale l'importante è che lo abbiate capito sì infatti l'importante è che sia chiaro ora il metodo con questa live anzi magari si può fare un sondaggio tu puoi farlo da admin sul canale devo entrare di là aspetta che lo faccio magari facciamo un sondaggio per se è chiaro questo metodo per chi l'ha seguito ok beh non avendo detto nessuno che non lo è ho fatto domande uh guarda che bello che ti avvisa youtube mi sta dicendo nei prossimi giorni potresti notare una diminuzione del numero di iscritti al tuo canale in quanto rimuoveremo gli account degli iscritti spam che brutto sempre brutto lasciatemeli così almeno non mi non mi cade il numerino allora devo andare in live dai io direi che facciamo questa domanda e poi salutiamo cosa dici sì sì va benissimo come cavolo si fa a a fare un sondaggio io dovrei essere quello bravo in teoria eccolo qua eccolo qua ce l'ha si crea un sondaggio c'è che non l'ho mai creato un sondaggio bello getting things ciraulo dice maestro Tommaso ultimo sondaggio vediamo hai capito bene anzi ne facciamo due hai capito come funziona e se intendi usarlo ok ok vai facciamo questi due sondaggi stasera c'è 100 cose belle stasera c'è 100 cose belle sì il format più bello del mondo esatto andatelo a recuperare scrivete 100 cose belle su youtube a me non mi fa votare ah perché sono admin del canale infatti mi dice mi dice addirittura termine il sondaggio 79% di sì abbiamo ok è un 21% di no esatto ma quel 21% ci scriva come mai cioè che cosa non ha capito faccia delle domande sì vedi i sondaggi sono molto importanti perché molte persone non giustamente stanno ascoltando non commentano oppure non non si sentono di mettere una cosa negativa no perché siamo in un flusso molto bello quindi magari uno dice no ma non glielo scrivo che non ho capito esattamente quella cosa molto utile sicuramente video da salvare in memoria vedi sarà possibile vederlo anche dopo sì certo 29 voti sì siamo ok dai terminiamolo perché sono più curioso mi raccomando se non avete capito ah ecco alcuni dicono tipo René che è arrivato dopo e quindi guarderà il video dopo ultima cosa voglio vedere chi è intenzionato almeno a provarlo che non vuol dire che poi si deve usare per tutta la vita allora hai visto che è bello che ti mette il repilogo sì molto bello intendi provare a utilizzare Matteo Tutorial Express Matteo è no? sì il test che abbiamo fatto con Andrea per il canale per gli abbonati del canale che entrano in un gruppo privato Telegram lo faremo lo portiamo avanti non so se lo farà solo Dragotta senza dirci niente tanto votate ma perché Andrea ha scoperto che su If This Then That hanno appena creato una funzionalità per collegare il tuo canale a Telegram cioè si scarica la lista no non per collegarlo a Telegram ma per scaricare la lista e poi tu devi fare la funzione e gli dai gli dai accesso esatto questo ve l'avevo raccontato su Instagram se mi seguite anche lì ve ne siete accorti ok ah cavoli avrei detto cioè ci sono più persone che intendono usarlo che quelle che lo hanno capito al momento vedi questa è una cosa bella questa è una cosa bella e io spero che possa aiutare tante persone a stare un po' meglio e a produrre contenuti sempre più di qualità infatti domani faccio una puntata su sta roba domani il telegiornale tratta proprio la questione della qualità che i creator hanno portato su internet è fondamentale quindi ci tenevo tanto a questa live con te perché secondo me davvero la qualità sta per fare la differenza nei prossimi anni e quindi spero che ci sia anche uno switch da parte di chi ancora lo sta facendo un po' così che si metta ad impegno con metodo a creare dei buoni contenuti fa sorridere che abbiamo hai capito bene come funziona il metodo di Ciraulo 76% si intendi provare a utilizzare il metodo di Ciraulo 83% si certo perché se lo andranno a riguardare quindi mi raccomando tutti voi che non lo avete capito ma la userete poi non date la colpa a me va bene direi che dai abbiamo fammi terminare il sondaggio abbiamo Danilo ciao che dice ho iniziato a provarlo già dalla chiacchierata che avete fatto con Ilari in quell'occasione mi sembrava abbastanza chiara avevo iniziato ad appuntare foglie su drive bello molto utile Paolo più che altro avere un sistema diffuso vuol dire ragionarci insieme su come implementarlo e migliorarlo viva la qualità Giorgio tu sei troppo positivo e aggiungo io è anche troppo bello su youtube vedo ancora tanti video trash e vabbè Giorgione va bene secondo me delle belle cose le abbiamo portate io direi che mi sento molto soddisfatto spero che lo siate anche voi io ti ringrazio Giorgio per avere fortemente voluto come dicono quelli bravi questa diretta per avermi aiutato anche a dargli una forma una struttura ed è sempre un piacere fare cose belle con te piacere mio piacere mio grazie mille grazie a voi vi mandiamo un grosso abbraccio con Giorgio ci vediamo su diario di due creator lo trovate già programmato questo proposito sia sul mio che sul suo canale sarà a febbraio quindi ancora fra qualche settimana ad ogni modo ci trovate anche da quelle parti da parte mia se state guardando il video in diretta vi aspetto su 100 cose belle questa sera alle 9 lo trovate su un altro canale che si chiama proprio 100 cose belle cercatelo su youtube e lo trovate così non lo linko se no mi trovate lo trovate sul canale telegram insomma sulle cose che faccio e basta un grosso ringraziamento e a presto ciao 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 ciao